in questo numero del salus tg studio italiano svela l'origine dell'alzheimer una nuova via per trovare le cure infezioni in corsia per il 6 per cento dei ricoverati arriva il piano lorenzin boom della psichiatria virtuale 3000 app scaricabili uno studio tutto italiano fa luce sui meccanismi all'origine della malattia che divo le ricordi e apre una nuova via per la messa a punto di una cura non è nell'ippocampo infatti che va cercato il responsabile del morbo di alzheimer in questo lavoro sperimentale abbiamo identificato la funzione di una regione profonda del sistema nervoso centrale che prende il nome di area tegmentale ventrale e che è costituita dai neuroni che producono dopamina e che la rilasciano a diverse aree del sistema nervoso centrale tra cui è compresa appunto l'ippocampo e il nucleo accumbens questo studio ci dice che di fatto la funzione ipocampale o meglio la struttura ipocampale resta preservata ma ciò che cambia è il rilascio di dopamina in quest'area ogni anno in italia si verificano in media sei infezioni ogni cento ricoverati in ospedale un dato simile a quello di altre nazioni del vecchio continente aggravato però dal fatto che i batteri di casa nostra sono più cattivi resistenti ai farmaci anche dieci volte di più rispetto ai paesi più virtuosi e ciò nonostante manca nel nostro paese una strategia nazionale per il controllo delle infezioni ospedaliere e dell'antibiotico resistenza un buco che potrebbe essere presto colmato con il piano ad hoc a cui sta lavorando una commissione voluta dal ministro della salute beatrice lorenzin si chiama in mental health la cura dei disturbi psichici attraverso la rete con pazienti che possono in alcuni casi essere gestiti anche in remoto le stime attestano che il 6 per cento delle app oltre 3.000 scaricabili dagli store digitali sono dedicate proprio alla salute mentale ne hanno parlato gli esperti riuniti a firenze per il venticinquesimo congresso degli psichiatri europei grazie a tutti